sono esausto ma sono felice oggi sono felice oggi perché ne mancano solo tre adesso ne mancano solo tre solo tre ne mancano adesso tre e la fiorentina ce la siamo tolta dalle scatole nonostante nonostante tutti tutti dicessero ma la fiorentina la fiorentina nelle ultime due partite ne ha prese sei verrà a milano a farsi la scampagnata del primo maggio la fiorentina no invece come voleva si dimostrare niente scampagnata del primo maggio perché in questo campionato nessuno ti regala niente in questo campionato ti devi giocare tutto fino all'ultimo minuto ed è questo quello che dobbiamo capire la squadra fortunatamente oggi è entrata in campo con la giusta mentalità la squadra fortunatamente oggi in campo è entrata consapevole di ciò ed è riuscita a portarsi a casa una partita complicatissima grazie grazie all'uomo all'uomo che deve essere venduto per l'offerta buona perché se arriva l'offerta buona io le ha o no quasi quasi lo venderei sarebbe da vendere le ha o cioè se ci pensiamo c'è non è poi così determinante sto giocatore qua no cosa vuole cosa volete che sia le ha o cioè ti ha semplicemente segnato oggi uno dei gol più pesanti di tutta la nostra stagione cioè nonostante lo ripeto nonostante fosse già reduce da 80 minuti di corsa in cui era costantemente raddoppiato da tutti no ma io sapete che vi dico io quasi 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 lo mettere in vendita sì quasi quasi effettivamente sarebbe da mettere in vendita ma 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 vando alle minchiate ragazzi mi devo riprendere la gioia è tanta la gioia è immensa io già so però cosa cosa diranno alcuni e lo vedi però fatichiamo però fatichiamo l'abbiamo sbloccata soltanto all'opprantesimo allora l'abbiamo sbloccata soltanto a dieci minuti dalla fine questo è innegabile il tabellino che parla però bisogna anche segnalare che il milan nell'arco degli 80 minuti precedenti ha sbagliato delle palle gol ragazzi allucinanti cioè oggi il milan ha sbagliato dei gol cioè impossibili cioè almeno tre almeno tre gol li abbiamo sbagliato in maniera clamorosa prima dell'uno a zero girù nel primo tempo solo contro terra ciano che riesce nell'impresa di mandarla fuori con sette metri di porta libera leao che prima del gol è solo anche lui con sette metri di porta libera e riesce nell'impresa di tirare alto a due metri dalla porta teo hernandez anche lui questa però era più difficile va detto lanciato in corsa solo contro il portiere anche lui la manda alta quindi quindi è vero che l'abbiamo sbloccata all'ottantesimo però è anche vero che abbiamo creato una quantità di palle gol abbastanza imbarazzante in senso positivo cioè abbiamo creato tanto tanto contro una squadra come la fiorentina molto forte deve essere chiaro questo perché oggi il milan l'ha vinta grazie al suo allenatore oggi l'ha vinta pioli sta partita qui che sia chiaro questo cioè oggi pioli l'ha preparata alla perfezione la partita cioè il milan ha concesso un'occasione alla fiorentina una sua azione più un'altra su palla inattiva quindi due occasioni in tutta la parte c'è la partita una la manda fuori Igor l'altra è Mignon che fa una parata Mike Mike ti amo ti voglio bene Mike ti amo ti amo ti amo ma oggi è palese ragazzi oggi finalmente oggi pioli ha preso spunto dagli errori fatti nelle precedenti partite giocate contro le squadre di italiano ed ha preparato una partita perfetta li abbiamo aspettati per tutto il primo tempo e li abbiamo costantemente fatti uscire per poi attaccarli con le verticalizzazioni ed eravamo sempre in superiorità numerica oggi pioli l'ha preparata alla perfezione chapeau perché le nostre di difficoltà sono nate solo ed esclusivamente dagli errori tecnici dei giocatori solo da quello oggi pioli ha consegnato al milan la partita e ha detto ai giocatori dovete soltanto fare il vostro dovere perché per come l'abbiamo preparata possiamo perderla solo noi e di fatto l'abbiamo vinta bravo mister perché siccome anche lì no bisogna perché oggi bisogna sfatare un po di tabù no è però pioli quando è sotto pressione spesso sbaglia a preparare le partite eccetera eccetera invece no invece no perché oggi hai creato molto di più e hai subito praticamente nulla da una squadra che è vero è in di era in difficoltà da un po di partite è evidente però questa è una squadra che ha vinto a napoli che ha pareggiato a san siro con l'inter cioè questa è una è una squadra vera la la fiorentina che sia chiaro non era scontato oggi perché anche qui sto video cioè si può intitolare proprio sfatiamo i luoghi comuni perché siccome c'è qualche folle qualche folle che vive nel metaverso che è riuscito a dire ma il calendario del mio è più facile rispetto a quello dell'inter e a me viene da ridere se come ma dove dove c'è l'inter l'udinese tra un po nel momento in cui registro che è indubbiamente una squadra osticissima ma poi che a chi chi all'inter la sandoria di già di già di giampaolo l'empoli già salvo in casa che ha vinto una partita in tutto il girone di ritorno cioè non so che cosa ha fatto oggi l'empoli perché non l'ho neanche vista il cagliari fuori casa che sta pensando di esonerare mazzarri e io devo sentire dire l'intera il calendario più fa più di più difficile il milan da qui alla fine ragazzi affronterà tutte squadre che richiederanno proprio il cento per cento delle nostre facoltà fisiche e mentali che sono tutte squadre che giocano da dio con tutte squadre impostate da dio e sono tutte squadre che attaccano che verranno a giocarsela spensieratamente tutte e tre perché ora mancano il verona l'atalanta e il sassuolo e la fiorentina era dello stesso livello di queste più o meno che secondo me sono quattro squadre a parte ma neanche allora io direi a parte il sassuolo però il sassuolo si sa con le big si scala si scatena sempre con noi in particolare si scatena sempre quindi non so neanche che contro una big il sassuolo va queste squadre qua quindi vedo siamo al momento del quaglio siamo al momento del quaglio in cui tutti devono essere collegati siamo al momento del quaglio in cui si deve sbagliare veramente poco e oggi pioli ha sbagliato veramente nulla ce neanche anche i campi sono stati perfetti cambi i giocatori però ragazzi c'è ripeto più duri quando c'è da finalizzare più duri più duri cioè quando abbiamo sette metri di porta cazzo non possiamo tirarla alta non possiamo tirarla al lato capite è quello è quello il discorso perché oggi lo ripeto fortunatamente grazie alla prestazione che abbiamo fatto siamo comunque riusciti a pescare il jolly e il jolly nasce comunque da un errore loro perché terraciano che ci regala il pallone alleao ma quando hai questo tipo di palle gol devi sfruttarle devi sfruttarle perché voi ragazzi lo ripeto se megnone non fa il miracolo su cabral poi stiamo qui a parlare di altro nonostante la partita sia stata preparata alla perfezione capite quindi dobbiamo capire dove siamo io sto sto impazzendo oggi è un video folle il video più folle della della storia del mondo però sto scaricando bisogna proprio di scaricare tensione tossine devo scaricare tutto in questo momento va bene raga più 5 momentaneo rimarrà momentaneo perché tra poco l'inter scende in campo è per forza di cose vincerà contro l'udinese che voi che non vincano a udine come fa la corazzata di limone a non vincere contro l'udinese c'è anche impossibile quindi io ben consapevole di questo vado a farmi un bagno in una vasca ghiacciata per raffreddarmi un po io vi ringrazio vi mando un salutone un bacio sempre forza milan e ricordo meno tre adesso ne mancano solo tre ciao